Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su una serie che mancava da tantissimo tempo sul canale Minecraft, cosa succede? Per questo grande ritorno ragazzuoli lasciate un bel mi piace, mi raccomando, per risupportare come avete fatto perché sta serie ragazzi è la serie che ha fatto più visual, sembra strano, ma questa è la serie che ha fatto più visual nella storia del mio canale E parliamo di diversi milioni, è la serie che è andata di più in assoluto, ha fatto un sondaggio sul canale ma avete chiesto di riportarla e eccoci qua ragazzuoli Oggi iniziamo con un cosa succede molto molto interessante, partirei subito nel creare un mondo, avete letto da titolo, inutile fare customize, no, voglio farlo un superflat e leviamo remove layer e remove layer Per il momento, done, done, andiamo con new world tranquillamente Ok ragazzuoli eccoci qua, siamo in un mondo normalissimo, un superflat, che cosa voglio fare? La prima cosa è andare a vedere se effettivamente funziona il comando che voglio dare io, slash, fill, tac 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 Andiamo di qua, fai così, tac tac tac, barrier, no, non me l'ha preso, tanto ci dovrebbe essere solo un tag con la bar, minecraft barrier Ok funziona, tanta roba, ok abbiamo delle bar, oh my god, che figata cazzo Oddio no, è fighissimo, vi giuro Ok, GG ci sta in botto Però possiamo fare di meglio sicuramente, le barri sono fighe Anche perché danno quell'effetto secondo me di roba che non c'è, cioè nel senso dovresti fare una roba del genere tipo Cavolo, oh my god, cioè sembra fluttuare, posso fare tranquillamente una casa In cui non c'è il pavimento, cioè o almeno sembra che non ci sia il pavimento Lì hai massima Poi che c'è, è un altro conto, però sarebbe figo Cioè è una cosa secondo me particolare questa da vedere Che ne dite? Cioè può essere figa una roba del genere? Secondo me sì cazzo Cioè sei sospeso nel vuoto Se le dovessi mettere così invece, qual è il migliore secondo te di configurazione? No, perché questo sembra fluttuare tutto Invece voglio che flutti soltanto il pavimento E questa è la cosa che mi interessa Che poi si rischia anche di cadere malamente Bisogna stare attenti Come cambia subito, vi avete visto la colorazione Ok? Ci sta secondo me Per il momento ci può stare Perché tanto la casa di Minecraft più figa ce l'ho ovviamente io Facciamo una cosina del genere Guardate che secondo me potrebbe essere figo Aspettate, aspettate, aspettate a parlare Vabbè insomma parliamo È costruita molto a cazza, la buona Assolutamente Non che sia fatta, cioè non è fatta ovviamente per bene sta roba Però potrebbe, cioè ci si può lavorare Tranquillamente su una roba del genere Fare tipo così Poi le puoi anche togliere le barrier in verità Cioè ti fai solo il pavimento di barrier Tipo una cosa del genere Cioè sta casa sospesa nel vuoto Tu arrivi qui Sì è sospesa nel vuoto anche questo Ma ci puoi camminare Particolare Oddio, oddio Ci si può lavorare raga Ci si può tranquillamente lavorare Ma dobbiamo aumentare Cioè dobbiamo fare una roba figa Questo è poco Troppo poco Direi di andare a creare un nuovo mondo E vedere se possiamo mettere le barrier Quindi creative Barrier Barrier Vediamo un po' Create default Super flat Voglio super flat Customize Questo è remove layer Remove layer Vediamo un po' questo se lo possiamo Modificare Non so come Non so come si Tipo preset Use preset Devo capirci Allora il preset si fa da qua Ok Quindi in teoria Devo capire com'è il codice Ok Allora se io gli do questo Lui mi prende Village 3 Minecraft Bedrock Minecraft barrier Facile Barrier Questo lo leviamo tutto Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Barrier 3 Use preset No Sbagliato Mi devi dare questa roba qua Ok mettete barrier Quindi vi faccio vedere Preset Mettete Ok village Non lo voglio Barrier Use preset Mettete questo Remove layer Mettete questo Remove layer Preset Done Done Create new world Ta da Ta da Ta da Ta da Ci siamo Sta generando eh raga Ok no L'ha generato Oh mio dio Che figata Oddio Ma ragazzi E' fighissima Sta cosa Vi giuro Oh mio dio Con i villaggi E' bellissimo Vi giuro E' fantastica Sta roba qua No E' bellissimo E ci sono i villager E poi fai così ovviamente Ah ok Te l'ho alzato Questo è vuoto Perché sei vuoto Perché sei vuoto Perché tipo le strade C'era qualcosa Che lui Non ha ben compreso E mi ha Fatto E mi ha fatto Tutto il vuoto Ma che figata Io poi posso collegare Certo che posso collegare Tac Oh my god Cioè oh my god Oh my god Oh my god Bisognerebbe collegare meglio In verità eh Perché così loro cadono sicuro 100% 10 a 1 Se io gli faccio una roba del genere No perché non possono più cadere Ma che figata Cioè sarebbe bellissimo Poterci fare una serie Su sta roba raga Cioè ma vi rendete conto Che cosa mostrosamente figa Ed emozionante Potrebbe essere Quella di fare una serie In un mondo del genere Tipo custom map In cui Però col void O ma con le barrier Magari Anche con le barrier Potrebbe essere figo E tu che prendi Vai in giro Però devi stare attento Perché ci sono dei buchi Potresti tranquillamente morire Oh mio dio Cioè raga Per me la rivoluzione Sto coso Cioè è fighissimo Cazzo Qui dà la possibilità Al villaggiore Di andare da tutte le parti Cioè devi collegare un po' tutto Questo sarebbe figo Poterlo fare te È tipo una sky Una skyblock In un villaggio Con le barriere In cui puoi ovviamente Costruire In cui ti devi fare i generatori Ti devi prendere la legna Perché puoi fare E poi puoi fare tante cose Partendo da un villaggio Calcola tipo Cioè i materiali Non li puoi ottenere Però puoi ottenere Tranquillamente il cibo Perché ce l'hai Gli animali Magari ti dai delle uova All'inizio Ci butti dentro I minerali Per i materiali È un casino La farm di ferro La puoi far tranquillamente Quindi ti fai tutto il setup in ferro I gialli I bomba L'ossidiana Te la dai per andare nel nether Hai praticamente tutto Ovviamente Ovviamente Alcune cose Le puoi modificare Per esempio Questo è figo Perché ti va sotto Ti si sfasa Madonna che figata Che poi Spawn Cioè I mob Non possono spawnare Sulle barrier Tipo slash Ehm Come cavolo era il comando Time set night Forse Time set Night Ok si time set night Vediamo Se spawnano i mob Dove spawnano Perché spawneranno Solo e soltanto Sopra le cose Vedete infatti Questo è spawnato qua Non può spawnare nessuno Sulle barrier Fai un posto Vedete Li spawnano creeper Cioè gli slot Li prendono tutti Dove è possibile Spawnare Spawnano Slash Time set Day Time set day Ok lo prende È bellissimo Qua mettiamo anche Default Perché è peaceful Scusate Perché se no Mi muoiono male Tutti i villageri Bellissimo ovviamente Il fatto che qua sotto Arrivi Ah ok Eh vedi non può andare Allora vediamo un po' Sappiamo benissimo Che l'acqua non va Sotto le barrier Ok Quindi io posso fare Tranquillamente una cosa del genere Rompere la barrier Ah qua qui cade Ok vedete E si ferma Cioè non funziona Poi si deve aggiornare Il barrier Però ok va bene Lì è massimo Non può andare più In basso A questo punto però Potremmo fare un'altra cosa Per esempio vedere Quanto i villager resistono I villager muoiono Dopo un po' in verità Perché arrivano Continuano a scendere Poi dopo iniziano a prendere danno E muoiono Guardate eh A parte che cambiano colore E poi spariscono totalmente Vengo giù con te villager Oddio diventa buissimo No 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 I sali caolo Sono morto male Eh vabbè ma Si prende un botto di danno Ora il villager è anche Abbastanza vicino Di là Ci si arriva facile Potresti fare ancora meglio Allora per esempio Ipotizziamo Questo per una possibile serie Ga Oh my Aspetta Aspetta no oddio Per una possibile serie Interessante Allora tipo ti fai una barrier Sotto Barrier Alzi di 5 blocchi Altro livello di barrier E sopra Costruisci così Sotto ti puoi vedere Che ti pare Ci puoi mettere Che ne so I mob Ci puoi mettere Effettivamente Vabbè si effettivamente I mob Però qualsiasi tipo di cosa Ci puoi mettere Ed è una figata assurda Con i command Vabbè fai che ti pare Ovviamente Però potrebbe essere interessante Veramente X interessante Cioè Potrebbe essere particolare L'idea mi piace Mi è venuta l'idea Per un altro video Fantastico Su cosa succede Non vi spoilerò niente Perché vi giuro È fighissimo Beh devo dire Che sta serie Mi è mancata un po' Eh ragazzuoli Particolare Devo essere sincero Molto molto particolare Poi si possono fare Oddio Cose fighe Del tipo così Per esempio Non posso collegare I flussi d'acqua Del tipo così Così Puoi costruire tutto Con le barri Una volta che Ci hai preso la mano Con le barri Ci fai del tutto Quello che ti pare No Non è paro Non combacia No Ok fai così Però poi Fai combaciare Tu tranquillamente Ci butti dentro Un po' D'acqua Ok Ti levi le barri Dalle mani E magicamente L'acqua sta su Magia pura Estrema Però figo Oddio Che figata Ti puoi fare Tipo gli acquedotti No vabbè Gli acquedotti Ti potevi fare anche prima Però Cioè tipo I conduit Tipo Ti fai tutto Un cerchio Di roba Cioè Tranquillamente Così Tipo una roba Del genere Vediamo E loro Non sapranno Niente di come funziona Cioè non ha idea Di come può funzionare Una roba del genere Facilissima da creare Ovviamente Non ci metti un cazzo Possono essere tipo tubi O roba del genere Perché poi La cosa figa è che Non si vedono Con la lava Li puoi fare Con il Qualsiasi tipo di roba Bello Bellissimo Aspetta Poi lo puoi anche chiudere Ovviamente E si ferma qua E sta lì A caso Beh raga Mostruosamente figo Va bene Ragazzuoli Penso che per questo video Posso tranquillamente essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Lasciare mi piace Se il video è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere il video Mi raccomando Passate tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Mi raccomando ragazzuoli Seguitemi su Instagram Emiliano.mare E diciamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi